I fondi europei che regolarmente arrivano alle regioni italiane e vengono impiegati per la formazione, per elevare la preparazione di chi è in cerca di lavoro o anche di chi già opera in un ambiente di lavoro adeguandosi a quelle che sono sempre nuove modalità di lavoro perché il lavoro cambia continuamente e c'è continuamente bisogno di avere un adeguamento delle proprie conoscenze e delle proprie professionalità. Questo la regione lo fa ovviamente da sempre impegnando anche fondi importanti, quest'anno siccome c'è una nuova programmazione di 7 anni che parte da questo anno, ecco io voglio ascoltare ed è oggi il primo incontro ma lo faremo in tutta la regione, voglio ascoltare tutte le associazioni di categorie rappresentanti dei lavoratori quindi anche il mondo sindacale eccetera per capire effettivamente quali sono le esigenze tendenziali che hanno le nostre imprese, che tipo di professionalità serve e serviranno per poter rendere maggiormente operative e funzionali le attività sui nostri territori. Quando avremo fatto una sintesi complessiva su questo avremo un'idea più precisa su come impiegare quei fondi, su come canalizzare diciamo quelle risorse per fare corsi di formazione che possano diciamo così sfornare, usiamo questo termine, dei lavoratori formati ma anche adatti ad inserirsi nel mondo del lavoro delle imprese di questi territori secondo appunto le esigenze che queste imprese hanno.